In Campania, per quanto di nostra competenza, nessuna deroga all'obbligo vaccinale. Ad affermarlo il presidente della regione, Vincenzo De Luca, che attraverso un post pubblicato sui social, ha reso nota la sua posizione dopo la non ammissione di tre bambini in una scuola del territorio perché non in regola con le vaccinazioni. La tutela dei bambini e delle persone immunodepresse, sottolinea De Luca, è la nostra priorità. Decidono i medici e gli scienziati, non i comici e i saltimbanchi. Basta con la demagogia.